Ecco, io non sapevo dell'esistenza di tutti questi ultradunning così fuori in terra Io sono capitata in questo momento in segreto E mi hanno iniziato a parlarvi di questa cosa, no? Io dicevo, voi siete pazzi, ma voi correte fino a stare male, fino ad avere allucinazioni, no? Che federe, ma questo ragazzo è iniziato a raccontarmi tutto E io ero interessatissima perché io sono molto... Ma perché ognuno trova il proprio modo che si è in contatto con il proprio corpo C'è chi si droga per sentire di più, c'è chi si corre, c'è chi... E' pazzesca questa cosa, e noi è affascinato tra noi Io ho scritto queste due...